Nicolò Nasta, difensore del pedone in questo secondo giorno di allenamento. Allora, Nicolò, innanzitutto ti chiedo come sta andando questo inizio di preparazione di questo pedone. Ieri a San Rocco, oggi qui a Borgo San Dalmazzo, si riparte? Finalmente si riparte, dopo tre mesi di riposo. Abbiamo cominciato ieri e si comincia subito a faticare, però siamo contenti. Il campo manca sempre. Una rosa la vostra di tantissime conferme, qualche nuovo arrivo a puntellare il roster. Penso che l'obiettivo sia sempre quello, provare a inserirsi tra le prime. Penso che l'obiettivo sia quello di provare a vincere il campionato, poi ne vince solo una, però secondo me l'anno scorso l'avamo finito molto bene, essendo poi al completo i giorni di ritorno e quindi secondo me possiamo provare a vincere. Ecco, società che ha avuto fiducia nel gruppo che ha concluso bene la scorsa stagione, perché veramente le conferme sono tantissime e alla fine gli arrivi sono stati due, quindi direi che grande fiducia sotto questo punto di vista per voi e anche per lo staff tecnico. Secondo me ha fatto bene la società, confermare il blocco, perché secondo me ci sono i giorni molto bravi e altrettanto un po' più anzianotti, però secondo me la società ha fatto bene e bisogna provare. Per quanto ti riguarda è stato confermato e rinnovato il prestito qui a Borgo, quali sono le motivazioni per questa stagione a livello personale? Penso che siamo molto motivati, perché vedendo come abbiamo finito il girone l'anno scorso, secondo me quest'anno davvero dall'inizio, partendo tutti insieme dall'inizio, possiamo provarci. Ultima cosa, che gironeci di promozione ti aspetti, perché le avversarie ci sono e sono tante. Mi aspetto un giorno è tosto, perché ci sono tante squadre forti. Si sa, Albese, Ben Arturo e Savigliano sono le squadre molto attrezzate anche in Busca, però secondo me dovremmo giocarcela con tutti e ce la giocheremo tranquillamente. Grazie mille, buona preparazione perché sarà lunga. Grazie a voi.